Sì, sono Sandro De Zolt, produttore di La Sportiva e sono felice di presentare le nostre notizie nel mondo del 4-bucco di La Sportiva per l'interno del 2017-2018. Qui ti presento il SYNCHRO e la shadow della versione di La Sportiva. Il SYNCHRO è il nostro nuovo 4-bucco di Bucco, più dedicato per il gratuito gratuito. Reworkiamo completamente le bindie, dare una miglioranza di ammiglia e rendere più facile da usare. Aggiungiamo una nuova notizia, fatta in due parti. La centrale, della notizia di Bucco, è rinforzata di carbonio, e quando funziona con la parte arriva, è completamente stile per la descente. Quando apreste le buccole, le due parti funzionano separatamente e rendono un'attività completa di motione. Nella parte parte, abbiamo la bucco di Bucco, che ti dà un controllo più dinamico della parte alta durante la performance di downhill. l'ultimo, abbiamo un'attività di intervento, che ti dà più confortabile e più precisione durante le skis. La shadow e la synchro, la nuova notizia di La Sportiva e la 4-bucco di Bucco per il fall-winter 17-18. Grazie a tutti.